amici noi siamo arrivati al quindicesimo giorno di ramadan amici ci siete mancati tantissimo amici mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate la campanella e mettete un bel like perché noi ci piace molto noi eravamo impegnati ad andare a scuola a fare i compiti ma soprattutto la cosa più importante che stavamo facendo l'attività di ramadan amici avete visto le nostre lune sono tutte belle perché abbiamo fatto tutta l'attività delle settimane ma aspetta aspetta anche voi avete fatto qualche attività mi raccomando fate qualche attività non fate i monelli amici è vero quello che ha detto mia sorella ma dai forza che dobbiamo fare la nostra terza settimana e soprattutto noi siamo nel quindici e c'è anche la stellina che vuol dire che avremo un regalone grande e vuol dire che è anche molto speciale amici noi passiamo la terza settimana dobbiamo dire per dieci volte una cosa dobbiamo dire per dieci volte subhanallah alhamdulillah e anche la ilaha illallah e alla cura della fede e anche la fortra è完了 12 12 bilancio divancio Alhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar È il momento di attaccare la sua figlia Nesta terza settimana Oggi adesso Scopriamo subito cosa è la nostra casellina 15 Qual è la percentuale del zaquettes? Aspetta che penso Ah sì c'era 2,5 Bene giusto Perfetto Adesso è il momento per il vostro regalino O meglio regaloni Visto che siete molto brave Il vostro regalino non sarà Né una caramella Né un giocattolo Ma sarà qualcosa Che vi sarà utile Nella prossima settimana Nell'ultima settimana Sarà qualcosa Che c'entrerà con la preghiera Ed ecco voi il vostro regalo Che bel regalo grazie Il vostro regalo sarà un vestito e un velo per pregare e un tappetino fatto apposta Amici di noi questo regalo Ti è piaciuto davvero tanto? E lo vediamo che arriva le prossime settimane Così impariamo a pregare con voi Anche noi adesso ci dobbiamo saltare E non manca un caffè Nel prossimo video Quindi adesso ci dobbiamo saltare Ma salamata